Roberto Cazzaniga e l'amore. Io non sapevo che esistesse Roberto Cazzaniga, che è un personaggio pubblico, che è un tennis, un pallabolista, non lo so, si fa ma internazionale. Mai saluto io che esista Roberto Cazzaniga, mai saluto, se non che un amico tramite Facebook, un amico, questo amico si chiama Marco Amico, mi informa di una strana vicenda che riguarda questo Roberto Cazzaniga. La vicenda è narrata dal Fatto Quotidiano e io questa vicenda me la metto come lì che io vi aspetto di questo video. E' una vicenda surreale, qua si dice che la realtà supera la fantasia, la realtà supera la fantasia, la realtà però non supera la fantasia di Serafino Massone, perché in libreria adesso voi potete trovare il mio nuovo romanzo thriller Il Marinaio delle Antille, capito? Ancora non ce l'ho in mano, non lo posso presentare, ma sta già nella libreria, allora presto vado in una libreria, lo compro e me lo muto. Quindi si dice che la fantasia, no, la realtà supera la fantasia, ma non quella di Serafino Massone. E poi chi è Serafino Massone? Serafino Massone è questo signore qua, vedete, questo signore qua ha circa 82 anni ed opera sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube. E su YouTube questo signore qua ha circa 11 milioni di visualizzazioni, ha scritto tante opere questo signore qua. Questa è una delle opere più celebre, La Stilpe del Serpente, vedete? Ma adesso in libreria c'è la mia nuova opera, Il Marinaio delle Antille, ma ancora, c'è già nelle librerie, ma ancora non ce l'ho fatta mostrarvelo, ho capito? Ora vado in libreria e mi procuro alcune copie di questo mio nuovo thriller, un romanzo, Il Marinaio delle Antille, quello che ho mostrato. Ma torniamo a tromba, l'amico, che si chiama Marco Amico, tramite Facebook, mi manda questa recente che riguarda Roberto Cazzaniga. Questo video è un romanzo, Roberto Cazzaniga e l'amore, si è tagliata la truffa, perché Roberto Cazzaniga è entrato in rapporto telefonico, in rapporto tramite messaggistica, con una bellissima girl, una bellissima girl. Non l'ha mai conosciuta personalmente questa bellissima girl, era bellissima però, e Roberto Cazzaniga se ne è innamorato, se ne è innamorato delle immagini, e questa bella girl continuava a chiedere soldi a Roberto Cazzaniga, e chissà com'è, Roberto Cazzaniga per 10-15 anni ha continuato a mandare soldi a questa bella girl, perché lui non l'aveva mai vista di persone in carne e ossa, l'aveva vista solo nelle immagini, e potremmo parlare di un amore platonico, sapete, Platone, no, il grande Platone, è un amore platonico, però questa bella girl, sì, l'amore platonico perché era un amore a distanza, però chiedeva i soldi, chiedeva, e Roberto Cazzaniga li mandava, dice, l'articolo dice, Roberto Cazzaniga truffato, dopo 15 anni scoperta la truffa, ora ho tanti debiti, è pieno dei debiti, capito? L'amore platonico è l'amore carnale, se l'amore carnale ti fa dal male, l'amore carnale, che ti fa finire dall'avvocato, il tribunale, il divorzio, gli assegni, è sempre che pure l'amore platonico possa farti dal male, l'amore platonico, ma io non riesco a capire, sembra una cosa incredibile, ma è scritta, meno male che è scritta, meno male, meno male che è scritta, io questa notizia ve la metto come limite a sud di questo video, Roberto Cazzaniga per 10-11 anni ha continuato a mandare soldini a questa bella girl di cui si era innamorato platonicamente, questa li rifiuggeva i soldini, e adesso è saltata fuori la truffa, andate voi a capire, andate voi a capire questa situazione, si dice che la realtà supera la fantasia, sì, vabbè, la realtà supera la fantasia, ma non supera la fantasia di Serafino Massoni, perché di Serafino Massoni ora in libreria c'è un romanzo thriller di Serafino Massoni intitolato è il maritario delle antille, pubblicato da questa stessa casa editrice, vedete? Leoni da editore, adesso vado in libreria, me ne procuro qualche copia, così vi posso presentare la mia ultima opera, un romanzo thriller intitolato e il maritario delle antille, se poi Roberto Cazzaniga vorrà farmi pervenire il suo preciso recapito postale, io Serafino Massoni mi farò pervenire a mia spesa una copia del mio nuovo romanzo thriller, il maritario delle antille, ok cari amici, ok, 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 Serafino Massoni